A Collecchio da molto tempo, tanti automobilisti si lamentano dell'incrocio che dal vialone del centro commerciale si inserisce sulla via Spezia, in quel tratto di strada compreso tra il distributore IP e la rotonda della tangenziale che conduce a Parma. Le preoccupazioni sono arrivate anche da alcuni autisti della TEP che hanno lamentato la pericolosità anche per loro nell'inserimento sulla strada statale a causa della scarsa visibilità dovuta alla conformazione dei loro mezzi e dalla loro posizione di guida che quindi per loro rende ancora più difficoltosa e pericoloso l'inserimento nella strada statale della Cisa. Comunque, sino ad ora fortunatamente non si segnalano gravi incidenti ma piccole collisioni tra autoveicoli. Abbiamo provato anche noi a fare questo pezzo di strada ed abbiamo trovato i jersey di plastica ed il cartello con la scritta viabilità modificata. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di trovare la giusta traiettoria per tutti gli autoveicoli per garantire a tutti una buona visibilità nell'affrontare l'incrocio in sicurezza. Trovata la giusta conformazione del piano stradale poi si faranno i lavori per dare una buona soluzione e una definitiva soluzione al problema, questo anche con lo scopo di non sprecare inutilmente fondi pubblici e fondi dei cittadini di collegchio. Come dicevamo abbiamo fatto anche noi nei giorni scorsi una prova per verificare se l'attuale conformazione provvisoria sia soddisfacente e dobbiamo dire che per il momento si deve migliorare ancora. Come potete notare dalle immagini, specie quelle del momento in cui ci si inserisce sulla vecchia statale 62, il piantone centrale del nostro mezzo ha bloccato buona parte della visuale delle macchine che arrivano dal centro di collegchio, quindi quelle più pericolose. Insomma non vogliamo mettere giudizi troppo affrettati ma sembra proprio che per ora si debba dire ritentiamo, saremo più fortunati.